Fanchino è un cortometrazo di animazione. Fanchino è divertimento. Fanchino è movimento. Fanchino è narrazione. Fanchino è formazione. Fanchino è un nuovo modello di interazione e inclusione lavorativa, di richiedenti asilo e beneficiari di protezione internazionale. Fanchino è l'inizio di un processo di produzione cinematografica partecipativa. Fanchino è unabto di più. Grazie a tutti.